Che cosa può rappresentare Presidente per la FGC Molise l'avvenuta nel capoluogo a Campobasso dell'imprenditore Aldo Vicenzo e dell'attribuzione del nome della sua azienda allo stadio di Selvapiana? Credo che sia un momento importante l'attenzione di una persona che ha il cuore molisano al 100%, anzi anche di più, perché uno che vive oltreoceano praticamente si interessa fortemente di quello che può essere un aiuto alla propria regione, al proprio movimento calcistico regionale che è rappresentato dal Campobasso, è una cosa importantissima. Poi non credo che un'azienda così importante metta il nome soltanto per mettere, io credo che ci saranno delle fasi successive molto molto importanti dove si andrà a recuperare integralmente la funzionalità di questo stadio, che è il gioiello del Molise, non solo del Molise, calcisticamente sono gli stati di oggi, hanno fatto uno stadio nuovo in Albania, a Tirana, uno stadio all'avanguardia di 19.800 posti, perciò questo 20.000 posti qua è uno stadio a misura di quello che è il calcio di oggi per eventi anche importanti. Appunto questo, la federazione strizza l'occhio anche al raddoppio della cabienza, perché ha lavori ultimati, lavori ultimati nella struttura dei distinti, settore Tribuna Monforte, lo stadio lo conterrà, potrà contenere 14.000 spettatori e quindi ritorna in auge il discorso che lei ha sempre fatto della venuta della nazionale Under 21 o nazionale maggiore che manca da 20 anni. Non si è interrotto il discorso, l'abbiamo affrontato qualche anno prima del Covid, con la venuta anche di Mauro Vladovic qua a Campobasso, di alcuni suoi collaboratori, avevamo fatto un programma, poi il Covid ci ha stoppati, poi le problematiche anche dei lavori che erano programmati per lo stadio che si sono ritardati, credo per motivi anche dovuti al Covid, un ritorno della capienza totale dello stadio ci dà l'opportunità anche a breve di programmare delle venute delle nazionali e pensando anche ad un ritorno anche della nazionale A, perché sappiamo benissimo che la nazionale A nelle varie qualificazioni che ci sono, ci sono target di partite dove hanno bisogno di stati come Roma, come Firenze, come Milano, ma poi ci sono anche partite di uno standard minore che è sufficiente anche lo stadio da 15-20 mila posti per poterle ospitare. Invece rispetto a questa società di Mattrizzetta che ha vinto il campionato di eccellenza e si pone con obiettivi ambiziosi in serie D, qual è l'opinione del comitato FIGICI? Noi siamo contentissimi perché lo scorso anno in questi giorni stavamo in una situazione difficilissima, legata anche alla questione del campo basso, l'intervento di Rizzetta praticamente che ha voluto fortemente metterci la faccia in questo discorso, ha rilevato una società del capoluogo e credo che il percorso è stato breve di ritornare subito, dopo pochi mesi si è ritornato in un campionato nazionale. Con la prospettiva da quello che si legge dalla stampa, da quello che si sta facendo di un ulteriore sforzo per ritornare subito anche nei professionisti. Il mio augurio e l'augurio di tutti noi del calcio molisano è che questo avvenca, la speranza di tutti, ritornare nel calcio professionistico e dimenticare in brevissimo tempo quello che è stato la delusione di un anno fa. Tutti quanti noi pensavamo di avere una squadra in serie C, invece poi per le note vicende che sappiamo tutti, non responsabilità da parte della federazione, ma responsabilità di una gestione forse un po' approssimativa che è stata fatta, ha creato dei problemi che purtroppo per l'ennesima volta c'è stata la cancellazione del calcio, non solo a campo basso, ma quando si cancella il calcio a campo basso si cancella gran parte del calcio anche a livello molisano.